Noi siamo spagnoli, africani, fenici, cartaginesi, romani, arabi, pisani, bizantini, piemontesi. Siamo le ginestre d'oro giallo che spiovono sui sentieri rocciosi come grandi lampade accese. Siamo la solitudine selvaggia, il silenzio immenso e profondo, lo splendore del cielo, il bianco fiore del cisto. Siamo il regno ininterrotto del lentisco, delle onde che ruscellano i graniti antichi, della rosa canina, del vento, dell'immensità del mare. Siamo una terra antica di lunghi silenzi, di orizzonti ampi e puri, di piante fosche, di montagne bruciate dal sole e dalla vendetta. Noi siamo Sardi. Siamo spagnoli, africani, fenici, cartaginiani, romani, arabi, pisani, bizantini, piemontesi. Siamo le flore di giallo e giallo che droppano sui passi rocciosi come grandi lampade illuminate. Siamo la solitudine selvaggia, l'immense e profondo silenzio, il splendore del cielo, la flore di sottotitura. Siamo il regno semplice di bianco, di luci, di luci che fluono in grano antichi, di rosa canina, di rosa canina, di rosa canina, dell'immensità del mare. Siamo un paio antico di lunghi silenzi, di grandi e puri orizzonti, di bianco, di bianco, di montagne bruciate da sottotitura e di rivoluzione. Siamo Sardi. Spagnoli, africani, fenici, cartaginiani, romani, arabi, pisani, bizantini, piemontesi. Chiamo Cossi, di luci, di luci, che allunga i suci caminos pedrosi che numerano le mani in cazzo. Sì, la soledà è crescita, di rosa canina, del suo modimento, del suo benissimo, del suo figlio e del suo marzo. Il suo fr Lazare di rosa, del suo modello. Il suo rimu senza il cowcio di sagessa. Di rosa, di rosa canina, dell'immense, della sua scimmola d'immensa situazione. Una terra antica dei modimmenes longos, Sermoso, dei fondales ampers e limpios, dei brandati scurigosas, dei monti esgrusiati dai su sole e dai sabindicati. Sardos, Sermoso. Bene, questa introduzione video serviva per ricordare non solo chi è Dinamo ma il percorso che ha fatto Dinamo con chi l'ho fatto fino a oggi, sicuramente il Banco di Sardegna è stato il primo cavaliere che ci ha accompagnato e non da oggi e non in questo momento ma ormai da 30 anni. Dico 30 anni posizionandomi in un numero non a caso perché ad oggi sono 29 gli anni che il Banco accompagna alla Dinamo e la conferenza stampa di oggi è per annunciarvi che arriveremo a 32 e per cui è stato rinnovato il contratto di sponsorship con il Banco di Sardegna che sarà main sponsor con la Dinamo per i prossimi tre anni. Credo che ora passeremo la parola al nostro direttore che ci racconterà un po' il percorso che è stato fatto e poi ci parliamo dopo. Il senso di questo filmato che per noi è un filmato emozionale è per dimostrare un po' a tutti perché chi ci conosce più da vicino lo sa ma credo che Dinamo e il Banco di Sardegna ormai stiano allargando i propri confini per far capire quanto è importante un binomio di questo tipo per la Sardegna perché qui come avete visto abbiamo associato sport, abbiamo associato territorio, abbiamo associato tradizioni. Quindi questo è un filmato di cui noi andiamo molto orgogliosi che abbiamo proiettato nel nostro consiglio d'amministrazione proprio in occasione del rinnovo della sponsorizzazione e quindi è stato visto anche da persone che non sono sarde ed è stato molto apprezzato. Quindi questo è un filmato che noi poi proietteremo e che utilizzeremo sia sul nostro sito ma in ogni occasione istituzionale sarà un po' la nostra presentazione. Anche perché come sappiamo per noi ma anche per la Dinamo la nostra non è una sponsorizzazione commerciale punto ma va molto oltre quello che è la semplice sponsorizzazione commerciale. Come diceva Stefano abbiamo raggiunto i 29 anni con questo rinnovo che riguarderà le prossime tre stagioni quindi copriamo le prossime tre stagioni fino al 2022 quindi agosto 2022 andremo ai 32 anni. Era già la sponsorizzazione più longeva del basket italiano come ricorderete qualche anno fa c'era stato consegnato l'Oscar Reverberi quando avevamo vinto proprio il triplete mi ricordo che eravamo andati a Reggio Emilia quindi al di là di qualche fischio che ci siamo presi per un tanto l'Oscar se lo siamo portato a casa e quindi probabilmente ce ne daranno un altro perché non credo che ci siano casi simili nello sport italiano in generale non solo nel basket. Normalmente si dice che quando le cose vanno per le lunghe poi c'è il rischio che ci sia una suefazione che uno si sieda poi sulla consuetudine. Come avete visto anche in questo caso sia Dinamo sia Banco di Sardegna rappresentano un'eccezione un'eccezione perché ogni anno noi ci inventiamo cose nuove cerchiamo di fare sempre meglio e direi non solo lavoriamo su tutta quella che è la parte commerciale visiva perché non dimentichiamoci che comunque tutti dobbiamo avere poi dei risvolti anche di tipo commerciale c'è poi tutta la parte di condivisione di valori e quando parlo di valori non mi riferisco solo al sociale che è importante perché tutte le iniziative che facciamo insieme per quanto riguarda la solidarietà ad esempio la partita per il Ponte Morandi che è crollato piuttosto che il terremoto di Amatrice per non parlare delle raccolte che tutti gli anni facciamo per la SLA nelle nostre filiali con i giocatori ma andando avanti con tutto quello che riguarda la vista degli ospedali dai bambini malati e quant'altro e se vogliamo aggiungere anche tutto quello che facciamo con le scuole abbiamo visto qui qualche esempio però anche qui abbiamo inserito il progetto scuola nel progetto sport anche qua proprio per dimostrare che non ci sediamo ma anzi le studiamo a volte anche di notte proprio mangiando una pizza insieme con Stefano ci siamo un po' inventati il progetto basket in classe che a metà, anzi che nelle ultime partite della Coppa FIBA ha portato al palazzetto oltre 4.000 studenti che per molti di essi era la prima volta che venivano gli abbiamo poi fatto a questo un concorso con dei disegni bellissimi che hanno fatto quindi credo che quello sia un'altra dimostrazione di quanto si può costruire intorno a quella che potrebbe essere definita una semplice sponsorizzazione commerciale quindi questo direi che peraltro è anche un punto di forza della Dinamo perché tutti sappiamo che ci sono squadre blasonate che hanno dei budget molto più elevati del nostro almeno 5 sono abbondantemente sopra il budget complessivo della Dinamo per cui la Dinamo ormai tutti siamo consapevoli che l'unico modo per contrastare la forza economica non può che essere quello che ci mettiamo noi l'entusiasmo, la serenità dell'ambiente, l'organizzazione le competenze societarie che non sono da sottovalutare la valorizzazione dell'identità e lo spirito di squadra e la serietà dei giocatori tutti poi ci aggiungerei in fondo, lasciatemelo dire perché anche questo contribuisce anche avere uno sponsor che da 30 anni ti dà tranquillità e ha costruito insieme a te un progetto direi sostenibile di lungo termine quindi torno a dire progetto sostenibile e la sostenibilità si vede anche nel fatto che noi abbiamo impostato da sempre un rinnovo triennale proprio per dare alla squadra la possibilità di parlare con i giocatori e di riuscire ad impostare dei contratti che poi sappiamo ahimè purtroppo non possono essere contratti a vita perché noi ci siamo dati anche uno stile che è quello di fare sempre il passo a seconda della lunghezza delle gambe o viceversa e quindi quello che andiamo a mettere in campo è un discorso sostenibile, ragionevole che non vuole portare la Dinamo a fare salti nel buio come altre squadre come abbiamo visto anche quest'anno hanno fatto la Dinamo ha sempre avuto bilanci direi equilibrati e questo tipo di stile ci garantisce che li potrà avere anche nel futuro per noi è importante non solo avere un main sponsor che in Sardegna, come il Banco di Sardegna non credo ne esistano altri ma avere anche un main sponsor con quello standing che abbia questa vision perché cambia radicalmente tra avere uno che ti sostiene solo da un punto di vista economico e uno che lo fa condividendo invece modalità di approccio e modalità di progetto e vorrei quindi dire due semplici e banali cose la prima è che situazioni come queste ci sono state nella placanestro cioè dove uno sponsor è diventato nel tempo quasi predominante cioè Dinamo e Banco oggi come oggi nel mondo della palacanestro viene vista come una cosa sola ci sono state situazioni analoghe cito una non voglio fare pubblicità gratuita a altre istituzioni però insomma per farvi capire come la penso è giusto che lo faccia la Scavolini Pesaro Pesaro era la Scavolini poi nel momento in cui il signor Walter Scavolini ha deciso chiaramente di fare un passo indietro la società ha iniziato a avere delle difficoltà è vero che Stefano qui ha strutturato la società in modo leggermente diverso però è anche vero che questo binomio secondo me è fortemente vincente e in più è anche secondo me motivo di orgoglio per qualsiasi componente di questa città è bello proprio è bello sportivamente che ci sia un legame così duraturo e mi ricordo ancora la prima volta che eravamo a Firenze e io non chiaramente non non conoscevano quali fossero i personaggi che gestissero il Banco di Sardegna e mi avevano presentato Beppe e Marina la moglie pensavo che fosse chiaramente la solita formalità cioè che mi presentassero quello lo sponsor con cui dovessi poi avere un rapporto chiaramente molto superficiale e invece secondo me un altro valore aggiunto inestimabile è proprio questo lo faceva lo stolineava Stefano ma lo vivono i ragazzi lo vivono lo vive il mio staff lo vive chiunque c'è da parte della Dinamo e chiaramente poi insomma da parte di Beppe e Marina un appoggio che va al di là poi di una sponsorizzazione e secondo me è un valore aggiunto clamorosamente inestimabile perché insomma viviamo una sorta di famiglia qui alla Dinamo e penso che Beppe sia un po' il padre di tutti ecco La gentile Presidente nel riscontrare la preciatissima sua del 6 maggio abbiamo il piacere di comunicargli che il Consiglio dell'amministrazione del Banco ha approvato nella seduta del 4 giugno 2019 il rinnovo per il triennio 31 agosto 2019 30 agosto 2022 alla medesima condizione del contratto di sponsorizzazione di prossima scadenza esprimiamo più vilo compiacimento per dare continuità alla nostra partnership la più longeva del baschio italiano e cogliamo l'occasione per salutare accordialmente Forza Dita Il Banco di Sardegna arricchisce la sua presenza digitale con nuovi strumenti Pinti il nuovo assistente virtuale guida il visitatore verso i servizi di cui ha bisogno sviluppiamo una strategia multicanale capace di raggiungere tutti Banco di Sardegna